La presentazione che è stata fatta da parte dell'ex presidente dell'Alde, lo è stato prima l'anno scorso quando aveva esaurito i due mandati previsti dello statuto, forse aveva delle parole che sono inusitate nel linguaggio politico italiano degli ultimi 40 anni, perché ci sono delle parole che hanno risonanze diverse nei diversi contesti linguistici in cui vengono usate. Quando usavo la parola ideologia, per esempio, il gran mozzo, che viene da un paese dove non sono mai stati forti i movimenti totalitari, che per definizione sono stati definiti ideologici negli ultimi decenni in Italia, ci si riferisce a quella accezione del termine ideologia che già da più di un secolo e mezzo è compresente assieme ad un'altra, che significa sostanzialmente una visione delle cose, un sapere dove si vuole andare, una cultura politica sostanzialmente. L'altra versione di ideologia che frequenta nel linguaggio politico italiano è quella del terriore che è sostanzialmente sinonimo di ideologie totalitarie. Però coglie un punto, credo, credo, questo discorso, e cioè il crollo delle culture politiche che è stato un crollo complessivo. Oggi se voi vi affacciate su Facebook, se leggete le interviste che vengono fatte per la strada ai nostri cittadini elettori che vorranno votare su questa, che io definisco una contro riforma, vi rendete conto che francamente pochissimi hanno non solo la conoscenza di questa riforma in particolare, ma sono ormai anche pochissimi, probabilmente dopo un abbondante quarto di secolo di intensiva diseducazione civica di massa, pochi hanno da un lato il necessario senso del divenire storico e dall'altro qualche minima competenza su come funziona dal punto di vista degli equilibri tra i poteri il sistema costituzionale di una democrazia liberale. Io non lo so se una formula molto semplice e ricastica può dare meglio l'idea di tanti discorsi più articolati, ma è stata recentemente riproposta, una di quelle formule che non si riesce mai a capire chi è stato il primo a utilizzare, che dice molto, le costituzioni sono quelle regole che i cittadini si danno quando sono sobri, ritrovarsene quando si ritrovano in teati. si è persa intanto in questi anni la prospettiva del divenire storico, sembra quasi che la democrazia liberale sia un dato della natura anziché una conquista delicata, difficile da preservare giorno per giorno della nostra civiltà politica. Noi che siamo nati dopo la seconda guerra mondiale non abbiamo l'idea della possibilità dei cambiamenti che avevano coloro che sono nati nei 70 anni precedenti. Da 70 anni ad oggi, almeno per gli europei dell'Occidente, noi ci troviamo sostanzialmente in un contesto di democrazie liberali basate bene o male, spesso più male che bene, sul rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, in società relativamente aperte, in economia di mercato, in società secolarizzate che hanno sviluppato una sempre più ovvia considerazione dei diritti e delle libertà e della dignità dei simboli. Pensate a chi fosse nato anziché dopo la seconda guerra mondiale, cioè 70 anni fa, 70 anni prima, qualcuno che fosse nato anche agli inizi del Novecento. Costui avrebbe sperimentato nel corso della sua vita situazioni politiche tanto diverse quanto il Regno d'Italia che appena si andava consolidando, la breve ma intensa stagione dell'età giolittiana, la guerra di Libia, l'impazzimento della cultura più ancora che della politica italiana alla vigilia della prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale che è stata forse l'evento che più ha assegnato quello che è accaduto nei decenni successivi, l'avvento del fascismo nella settimana rossa prima ancora, l'installazione del fascismo, la guerra di Etiopia, la guerra di Spagna, le leggi raziali, la seconda guerra mondiale, la catastrofe del Paese, la ricostruzione così difficile di una democrazia liberale, l'incertezza sulle sorti di questa neonata democrazia immediatamente dopo quando non si sapeva se il fascismo fosse stato davvero sconfitto, quando in tutti i paesi dell'Europa orientale venivano instaurate abitature comuniste e poi postui, se fosse vissuto a lungo avrebbe conosciuto la ricostruzione, il miracolo economico, ma dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale, tutto sommato, non avrebbe vissuto le grandi svolte epocali che aveva vissuto la generazione precedente. Per cui si ha in qualche modo l'impressione che molti nostri concittadini considerino la libertà costituzionale, la democrazia liberale, il contesto anche di egemonia di questi valori, di questi principi nel mondo che abbiamo sperimentato in questi 70 anni come qualcosa di scontato. E la dimensione politico-istituzionale che rende tutto questo possibile come sostanzialmente stabile. Guardate che cosa succede intorno a noi, intorno a noi i fondamenti stessi su cui si fonda la democrazia liberale, il sistema delle libertà individuali e la società attenta, vengono messi in discussione ovunque. Forse Marine Le Pen sicuramente, pare, sarà uno dei due candidati al valottaggio nella Repubblica Francese. La Gran Bretagna ha votato non solo e non tanto la Brexit, quanto la Brexit sulla base delle proposte di un gruppo di colinguisti e di populisti assatanati. Perfino in Germania, il paese che sembrava più di tutti gli altri immune, vaccinato contro entrambe le catastrofi del Novecento, cominciano a esserci lì. Nasce un partito che è il partito di professori che non amano l'euro e subito dopo qualche mese se ne impadroniscono dei populisti e autoritari peggiori ancora e proprio per questo riescono ad avere il successo che rischiano di avere perfino in Germania. E proprio quando spuntano ovunque, non parliamo dell'Europa orientale, della Polonia, dell'Ungheria, movimenti populisti, autoritari, xenofobi, apertamente razzisti, proprio qui si stabilisce di dover affrontare una riforma costituzionale che attenua e attievolisce le garanzie delle libertà costituzionali e delle regole del gioco. Io cerco di spiegare in questo libro attraverso quali complicati meccanismi costituzionali questo si verifica e tra l'altro quale sia il rapporto tra legge elettorale e garanzie delle libertà costituzionali perché si possono fare tutte le riforme costituzionali che si vogliono, si possono anche aumentare anziché diminuire le garanzie costituzionali dei diritti e la garanzia che le regole del gioco non verranno manomesse da chiunque si trovi al potere, ma se contestualmente si afferma viene meno quella convenzione costituzionale che durava almeno dal 1953, secondo cui le leggi elettorali devono anch'esse essere sostanzialmente concordate tra le forze politiche anziché essere imposte da chi detiene pro tempo nella maggioranza in Parlamento, ormai questo precedente, ci sono stati due precedenti che si rafforzano l'uno con l'altro. Berlusconi quando ha fatto approvare il Porcellum ha cercato di avvelenare i pozzi per chi arrivava dopo, votando una legge elettorale alla vigilia delle elezioni, a giochi quasi già iniziati, che avrebbe dovuto rendere difficile la vita ai successori. E Renzi, quando si sentiva fortissimo, fa approvare all'opposto, anche a maggioranza, una legge elettorale che sbaraglia l'opposizione. E adesso si appresta, un po' per il problema promesso perché vuole vincere il referendum, un po' perché ha paura che con quella riforma fatta sulla base dei sondaggi di allora a vincere siano altri, si appresta a cambiarla una terza volta. Ormai questo precedente si è così consolidato. Ormai si è affermato il principio che qualunque maggioranza parlamentare può farsi la sua legge elettorale a proprio vantaggio sulla base degli ultimi sondaggi. In una situazione di questo tipo, venuta meno quella convenzione costituzionale pluridecennale, qualunque riforma costituzionale direnta è ricevibile se non fissa in Costituzione i principi di fondo della legge elettorale o se non stabilisce quantomeno che le leggi elettorali non si possono modificare a maggioranza semplice con una qualunque legge ordinaria. Per cui anche se Renzi dice noi cambieremo l'italicum, io poi voglio vederlo se lo cambiano in caso di vincere il sì, perché se dovesse vincere il sì, i sondaggi di Renzi fossero ottimi, si troverà una scusa, si dirà ma noi avremmo voluto cambiare l'italicum, però non ci hanno consentito, non c'era il consenso, i cittadini hanno fatto istruzionismo, pazienza, andiamo a fare le elezioni con questa legge elettorale, si avrà salva la Corte Costituzionale certamente, ma potrebbe riuscire ad arrivarci prima ancora di un'eventuale decisione della Corte Costituzionale, così i successori. Tra l'altro, guardate, una delle truffe contenute nel progetto è quello che stabilisce il controllo preventivo della Corte Costituzionale sulle leggi elettorali prima della loro entrata in vigore. Perché oggi, grazie all'Avvocato Palungo, all'Avvocato Bozzi e altri loro colleghi, si è affermato con grandi difficoltà il principio che chiunque di noi, qualunque cittadino elettore può attraverso un giudice riuscire a provocare un giudizio di legittimità della legge elettorale, con questa norma che è stata inserita nella riforma e che stabilisce che il meccanismo può essere attivato soltanto entro dieci giorni, se non mi ricordo male, dalla approvazione della legge e soltanto per iniziativa di una consistente minoranza di deputati e senatori, questo meccanismo sarà con ogni verosimilianza ritenuto sostitutivo di quello, per cui anziché esserci una garanzia in più, c'è una grande garanzia in meno, per cui noi oggi votiamo qualcosa che se finisce domani nelle mani di un gruppo populista, autoritario, xenofobo, come quelli che nascono come funghi intorno all'Italia, noi rischiamo di ritrovarci domani non con, noi non siamo così stupidi da dire che Renzi vuole instaurare un'abitatura, vuole instaurare un sistema autoritario, Renzi semplicemente pensava di lucrare su una serie di discorsi che si ripetono interrotti da una trentina d'anni, chiedeva prima a Manna da che cosa nasce, ma se dobbiamo andare indietro nel tempo nasce da un dibattito che si svolse più o meno negli anni Ottanta, quando si riteneva di doversi richiamare ai classici anziché confezionare direttamente le porcate come i loro autori hanno definito alcune delle loro produzioni degli ultimi anni. Si era aperto negli anni Ottanta un grande dibattito sulle tesi di Max Weber, il quale all'inizio del Novecento proponeva come alternativa alla democrazia buderale un modello di democrazia plebiscitaria che in tedesco suonava ancor più sinistro. La formula tedesca usata da Max Weber era plebiscitare pure democratie, naturalmente non sapeva quale sarebbe stato l'uso di queste parole che si sarebbe verificato poco dopo, anche perché ebbe la fortuna di morire nel 1920 e di non vedere che cosa sarebbe arrivato dopo. Ma insomma era il periodo in cui, all'inizio del Novecento, era il periodo in cui da varie parti si cominciava a dire che la democrazia liberale era una cosa adatta alla classe discutidora, come si diceva in Spagna, che il government by discussion fosse qualcosa di legato a una delicata serie di equilibri costituzionali che avevano senso, come dicevano per esempio all'epoca i marxisti perché i diversi poteri erano espressioni di diverse classi. Non a caso ancora all'assemblea costitutente i comunisti non volevano, i comunisti all'epoca stalinisti non volevano né corte costituzionali né separazione dei poteri, si battevano per il principio dell'unità del potere statale, che era l'idea del procuratore Riscinski, come alternativa alla separazione dei poteri che ritenevano tipica della democrazia borghese. Ma questo dibattito invece de Beriano, che era stato ripreso negli anni 80 in epoca craziana, era stato ampiamente diffuso sulle riviste che facevano capo a Craxi, è diventato un po' alla volta del senso comune. In particolare è diventato il senso comune dal tempo in cui un'enorme influenza culturale ha avuto in Italia Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha avuto un'enorme influenza culturale intanto perché è riuscito anche a finanziare delle cose di alto rinievo culturale, riviste come ideazione che dovevano in qualche modo dare l'idea che fosse naturale la convergenza fra i liberali e un certo tipo di nazionalismo che sarebbe poi conflitto nel fascismo. O la prima versione di liberal che voleva dare anche l'idea che il mondo liberale e il mondo clericale fossero qualche cosa di sostanzialmente. Perché? Perché era tutto funzionale alla costruzione di quella alleanza cosiddetta dei moderati in cui dovevano convergere tutte le ragioni di quello che veniva definito il moderatismo italiano. Quindi i liberali non erano quelli del nostro amico Watson, non erano quelli della tradizione a cui guardavano i nostri risorgimentali. C'è una bellissima dichiarazione di Alfredo Rocco prima che diventasse fascista nel 1912 al congresso nazionalista, Alfredo Rocco dice ma i liberali italiani hanno voluto l'unità dell'Italia soltanto come un pretesto per attuare non la chiamava così ma insomma la società aperta, i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali, il parlamentarismo. Era vero. I liberali italiani, voi andate sull'altare della patria c'è scritto patria e unità dei chili un libertati. Perché? Perché le due cose dal punto di vista dei liberali e soprattutto dei liberali progressisti e soprattutto dei liberali repubblicani alla Gattana, dei liberali alla Bertani, il medico della spedizione Garibaldina che divenne deputato al Parlamento subalpino. Era proprio questo, l'unità del Paese come strumento della modernizzazione, sia della modernizzazione politica sia della modernizzazione economica. Ed era questo comune ai liberali moderati alla Cavour e ai liberali progressisti alla Cattanea. Era comune ai monarchici moderati e ai repubblicani che erano disponibili a lavorare per la costruzione del Paese e magari se necessario anche a venire a parte con la monarchia. Ecco, questa era all'inizio l'idea alternativa rispetto alla democrazia liberale. Quel dibattito degli anni Ottanta, che poi fu ripreso in modo fioroso anche da Silvio Berlusconi, a questo poi ha portato. Quindi l'idea che la democrazia consiste nell'eleggere un capataz e a questo capataz conferire pieni poteri fino a, se necessario, la distruzione del Paese perché la cosa importante non è il government by discussion, la cosa importante è sapere alla sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso e perché questo conferisce al popolo la facoltà di decidere, questo è qualcosa che poi non è più sostanzialmente stato rimesso in discussione. La sinistra ha perso con la sinistra di ispirazione comunista, ma in parte anche quella di ispirazione socialdemocratica. Quando sono entrati in crisi i modelli a cui si riferivano, hanno perso con questo tutto. Io credo che i comunisti dopo l'Ottantanove, anche i comunisti italiani, hanno fatto quei discorsi che faceva per esempio Violante quando era presidente della Camera sui ragazzi di Salò, perché si sono psicologicamente identificati con le ragioni dei vinti della storia e perdendo la loro ideologia totalitaria precedente o quello che ormai ne residuava, hanno fatto propria anche in gran parte l'idea di democrazia, degli avversari, ma non degli avversari liberal-democratici con i quali sia pure il torto collo erano deciso di ricostruire la democrazia liberale dopo la catastrofe fascista, ma anche con i vinti precedenti, con l'ideologia che era stata l'ideologia della ma qui c'è troppa libertà, la democrazia decidente e plebiscitaria come l'alternativa alla società aperta. Io credo che di lì nascano molte delle cose che poi sono concluite anche all'interno di questa riforma costituzionale perché si è persa la nozione di quali sono i valori da preservare per la sopravvivenza di una società aperta, liberale, democratica e fondata sul rispetto delle libertà fondamentali e si è sostanzialmente aderito all'idea che il problema dei problemi è quello di rendere il Paese governabile pur che sia. Questa non era necessaria per arrivare a maggiore stabilità e governabilità del Paese, arrivare a creare delle situazioni nelle quali a essere messe a repentaglio sono le regole del gioco, delle quali le modifiche delle leggi elettorali che si sono susseguite dal 1992 in poi non hanno tenuto conto del rapporto che c'era tra il mutamento della legge elettorale e il rispetto per i quorum costituzionali. Badate, non si è fatto neanche nel 1992 perché nel 1992 di fronte alla catastrofe di Tangentopoli si è proceduto a un'operazione che sarebbe stata assolutamente legittima che era quella di cambiare il sistema elettorale ma non ci si è posto il problema dell'adeguamento preventivo dei quorum costituzionali che erano stati stabiliti nel 1948 sulla base del presupposto tacito ma all'epoca universalmente condiviso secondo cui la legge elettorale per la Camera e per il Senato sarebbe stata una legge elettorale proporzionale. Io non voglio rimpiangere la proporzionale come sistema per eleggere la Camera dei Deputati ma se si accetta la proporzionale allora bisogna, se si accetta di superare la proporzionale allora bisogna adeguare, altrimenti che senso ha fissare dei quorum costituzionali se poi chi vince le elezioni è a un passo da superarle? Guardate, con questa ritorna costituzionale si passasse il sì per riuscire a consentire a una maggioranza di legislatura di ripadronirsi delle regole del gioco e pensate per esempio a un'emergenza terroristica come quella che ha vissuto quest'anno la Francia o a un aggravamento ulteriore e molto drammatico della crisi economica, un governo populista e demagogico potrebbe benissimo rifarsi la legge elettorale e leggersi fino a 9 giudici costituzionali su 15 meccanismi di indico nel mio libro semplicemente trovandosi un verdini qualunque, un capitano di ventura disposto ad organizzare una decina, qualche decina di deputati soltanto, fra quelli che non essendo stati soddisfatti le aspettative che avevano nel momento in cui sono stati eletti in Parlamento sono disposti a qualunque avventura. Guardate, la Costituzione degli Stati Uniti si è cercato di adattarla, di introdurla in tutti i paesi dell'America Latina per decenni e quelle stesse norme hanno prodotto un risultato diverso perché bisogna tener conto della sociologia politica e dell'antropologia culturale dei paesi in cui le norme vengono introdotte. Quest'anno ci sono stati 263 deputati che hanno cambiato gruppo. Allora si può cambiare gruppo perché cambia il proprio gruppo, come è il caso sicuramente di scelta civile e io non sarei rimasto in un gruppo che voleva poi finire con Berbini, però ci sono 263 parlamentari che nel corso del pari al 27,68% che sono passati ad altro gruppo, per un totale però di 380 passaggi perché alcuni deputati hanno cambiato gruppo più volte, alcuni parlamentari. Allora in una situazione di questo tipo bisognava blindarle le garanzie costituzionali anziché rischiare di attenuarle, proprio perché bisogna tener conto della sociologia politica e dell'antropologia culturale quando ci fanno queste cose. Io ho parlato anche troppo, ma vi racconto brevissimamente qual è la proposta alternativa che io spero che potremmo forse prendere in considerazione per imbastirci una proposta della cultura e della politica liberale, radicale, repubblicana, laica, democratica nel caso che il 9 incesse a partire dal 5 di dicembre. Se il problema è la stabilità dei governi e consentire a chi vince di governare, benissimo, si tratta di consentire una base parlamentare sufficientemente ampia per consentire a chi vince di approvare la fiducia, approvare il bilancio, far passare la legislazione ordinaria e determinare l'indirizzo politico. Non anche di cambiare unilateralmente le regole del gioco, non anche di modificare la Costituzione, non anche di eleggersi gli ordini di garanzia. A me sembra che questo si possa fare in modo abbastanza lineare e forse anche comprensibile con questo meccanismo. Una Camera sola, delle dimensioni della Camera attuale che è di 630 membri. 530 elettri con un sistema nettamente maggioritario che potrebbe essere il sistema doppio turno del Parlamento francese o il mio prediletto che è quello previsto in Australia per l'elezione della Camera dei rappresentanti che produce sostanzialmente lo stesso effetto in termini di forza maggioritaria, ma in un unico turno, visto che poi tra l'altro è un po' difficile mandare i votori a votare anche in un turno solo, ed evitando anche i compromessi fra forze politiche fra un turno e l'anno. Questo dovrebbe garantire ragionevolmente, sul sistema elettorale lo garantisce al mille per mille, ma insomma questo avere 530 membri su 630 eletti con questo sistema dovrebbe sostanzialmente garantire la possibilità che per quel che riguarda quelle funzioni che abbiamo detto, approvare i bilanci, approvare la fiducia, votare la legislazione ordinaria, terminare l'indirizzo politico, questo dovrebbe essere assicurato. Propongo poi che invece 100 membri di questa Camera unica, che in omaggio alla tradizione potrebbero essere chiamati se volete senatori, venissero letti invece con la proporzionale pura e solo quando la Camera vota tutta intera nel 99% delle occasioni in cui deve votare, ma quando si devono votare questioni che riguardano la modifica della Costituzione, l'approvazione di nuove leggi costituzionali, la modifica dei regolamenti parlamentari, l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare e aggiungerei anche se oggi questo è previsto da una legge ordinaria, l'elezione dei membri reici del Consiglio Superiore della Magistratura, in questi casi si deve avere la maggioranza prescritta dalla Costituzione non solo dell'intera Camera ma anche all'interno dei 100 eletti con la proporzionale pura. In questo modo verrebbe assicurata la governabilità del Paese in modo assoluto o perlomeno umanamente nel modo che umanamente si può prevedere essere assolutamente stabile e al tempo stesso non si metterebbero a repentaglio le libertà costituzionali e non si metterebbe nelle mani di chi vince una semplice tornata elettorale la determinazione delle regole del gioco. E in più, e con questo finisco, questi 100 sono il luogo in cui una forza politica outsider potrebbe fare le sue prove prima di cimentarsi nella principale arena maggioritaria. Questa è sostanzialmente la proposta, non so se in 5 potremmo provare a discutere, ma di vedere se possa essere fatta propria da un'area un po' più alta. E chiedo scusa se ho parlato un po' più alta. in questa... buona